Amedeo Feniello è una delle star di questo festival del Medioevo quindi sarà stato già presentato in una delle sue tante performance, dato che non c'ero, lo presento anch'io. Amedeo ha studiato, insegnato, ha lavorato in vari posti a Parigi, a Chicago, a Napoli, a Roma, eccetera. A mio avviso si caratterizza soprattutto per una qualità, per una capacità, quella di usare registri diversi di scrittura. Appena adesso Barbero e Cardini parlavano anche dei problemi della scrittura storica e Amedeo è capace di utilizzare vari stili di scrittura. La scrittura saggistica innanzitutto, quella specialistica, quella degli universitari, perché ha pubblicato dei corposi volumi, per esempio sulle campagne napoletane alle fine del Medioevo, per l'Ecole Française de Homme, è un bello importante volume, Società ed Economia dal 902 al 1137 relativo a Napoli, è uscito con l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo nel 2011. Poi due volumi ancora su Napoli, Napoli nel Medioevo, per la collana Le città del Mezzogiorno medievale dell'editore congedo di Galatina. Poi è bravo nella scrittura ugualmente saggistica ma leggera, la definirei così. Non utilizzerò mai, dopo quello che ha detto Barbero, divulgativa. E questa è un'arte molto difficile, quella di contemperare, d'altra parte chi ci ha preceduto è maestro in quest'arte, poter contemperare, saper conciliare appunto la qualità scientifica con la leggerezza espositiva. E dunque Amedeo in questo ambito ha pubblicato sotto il segno del leone la storia dell'Italia musulmana nel 2011, la storia degli uomini che inventarono la banca con la terza nel 2013, con il titolo Dalle lacrime di Sibille. Sibille è una donna provenzale derubata malamente dai banchieri. E infine quel libro da cui ha preso lo spunto lo spettacolo di ieri sera, Napoli 1343, le origini medievali di un sistema criminale, pubblicato da Mondodoro nel 2015. Nel 2014, di quell'anno questo libro di cui parliamo questa sera, si è cimentato a Medeo Feniello anche con la scrittura per i bambini, per l'infanzia. Il bambino che inventò lo zero dunque, pubblicato dalla terza, la terza non sapeva nemmeno che pubblicasse una collana per bambini, si chiama Celacanto, non so che numero abbia questo volume nella collana, il tre. L'ha pubblicato con, credo che si possa parlare davvero di un coautore, Gianluca Folii, che è l'autore dei disegni, il disegnatore. Ho detto queste cose con un po' di invidia, perché questa capacità che mostra a Medeo di appunto saper toccare tutti i tasti della scrittura storica, c'è un po' di invidia perché io non sono capace. Bisogna anche notare il fatto che chi è in grado di fare queste cose è perché possiede davvero tutti gli strumenti dello scrivere, tutta l'arte dello scrivere. scrive bene, scrive bene. E questa è una cosa importante, specialmente per chi si è avvezzo invece alla letteratura specialistica che molto spesso rinuncia prioristicamente alla bellezza dello stile per andare al sodo della ricerca. Parliamo dunque del bambino che inventò lo zero, è Leonardo Fibonacci che come molti sanno è colui che ha introdotto in Italia e di qui nell'occidente medievale, a parte la penisola iberica, il sistema di numerazione che definiamo arabo. Spiegarlo ai bambini questa cosa è un po' difficile, quindi la prima cosa che vorrei che a Medeo ci dicesse è il perché, il quando, il con chi e con quali fini questo libro. Allora buonasera innanzitutto, grazie, siete tantissimi. Volevo fare una fotografia e mandarla a mia moglie per dire guarda quanti sono, siccome lei fa un lavoro serio, fa il medico, e sempre ogni tanto mi dice ma tu che lavoro fai precisamente? Allora faccio vedere, guarda c'è anche gente che mi ascolta, cosa che a casa non succede. Detto questo, no è la verità, è la verità. E' un altro piccolissimo aneddoto, un giorno che il maestro di mia figlia mi chiama a scuola e dice, sa poi lei che c'ha il negozio di libri, dico no, ma come mai, perché li vende? Dico non capivo, dice no perché sua figlia dice che lei vende i libri. E dico sì, insomma, è un modo comunque quello, vendo i libri sì, insomma, in una certa misura. Come è nato il bambino che inventò lo zero? L'idea non è mia, ma dell'editor di La Terza, che è una persona molto in gamba, che si chiama Giuseppe Carletti, che è un talent scout, è un giovane talent scout che è capace, che ha trovato molti autori, è quello che pubblica Barbero, Gardini e anche me per altri versi, che ha avuto l'idea di fare questa collana per bambini. Il primo numero l'ha pubblicato, si chiama Ingvar Svala, mi sembra, e l'autore è Franco Gardini. Dopodiché l'ha chiesto a me, dice, ma vorresti fare tu una cosa su un personaggio che potrebbe essere carino? Io avevo appena pubblicato il mio libro sulla banca e dico, vabbè, facciamo una cosa, c'è un personaggio che è bellissimo perché è all'intersezione delle civiltà. Cioè, voi immaginate questo ragazzino qui, stupendamente disegnato da Gianluca Folì, che è veramente un maestro straordinario di scrittura e del disegno e della rappresentazione grafica, ma questa è una storia vera. Cioè, la storia di un ragazzino cristiano, pisano, che alla fine del XII secolo viene preso e, strappato da casa sua, deve lasciare le abitudini, tutte le sue abitudini, da quelle alimentari, religiose, gli amichetti, quello che può essere la vita quotidiana di un bambino, e il papà se lo porta in una cittadina che si chiama Bugeri Barberia. E, a Bugeri Barberia, lui racconta che dei saggi del posto, musulmani, gli insegnano i numeri alla maniera degli indi. Questo lo dice lui, è libera Abbaci. Cioè, c'è una forte componente di onestà intellettuale in Leonardo Fibonacci, è uno dei motivi per cui io l'amo molto. Perché non è che uno che si dice a Napoli, si atteggia, e arriva e fa, ah, lo zeri, i numeri, ah, l'ho inventato io, e come sono bravo, ma sono in gamba, mi sono inventato questo gioco nuovo che può piacere tanto e rivoluzionare il mondo. No. Lui, con onestà, spiega, nelle prime pagine in Liberabba, ci dice, guardate, queste cose le ho apprese da maestri di un'altra civiltà, ad un'altra società. Quindi è nata l'idea, è nata la scrittura, è nata poi, non so come facciamo per andare avanti, perché non voglio... E queste sono altre immagini. Praticamente il plot qual è? Un ragazzino birbante, perché Leonardo Fibonacci lo chiamavano bigollo, questo è un fatto reale, che significa zuccone, mezzo scemo, che secondo me stava sempre là. Io l'ho rappresentato come un ragazzino estremamente vivace, che faceva un sacco di danni in questa bugia di barberia, a un certo punto il cadì della città decide di affidarlo ad un saggio musulmano che se lo cresce. E tutto il libro è creato su questo rapporto, che forse è uno dei rapporti più belli che ci sia in questo mondo, il rapporto fra il maestro e l'allievo. È una delle cose... Insomma, a me mi commuove come cosa, perché ho avuto grandi maestri, bravissimi maestri. E quindi poterlo descrivere in qualche maniera, in qualche misura, era un po' quello che diceva Franco Cardini prima, è la maschera, ognuno si rappresenta anche in questa storia un po' se stesso. Ebbene, questo è il plotto. Il difficile, capite, per un tema del genere era quello di renderlo raccontabile, di farne un racconto. Il racconto dell'incontro di due civiltà, un incontro che in realtà avveniva anche in altri luoghi, in Italia, nella penisola iberica e così via, l'incontro di due civiltà nella vicenda personale di un ragazzino. E quindi il libro è la storia di un rapporto, appunto. Tra? Il rapporto tra il bambino e il vecchio, tra Leonardo e il vecchio maestro Ahmed, che comincia subito col prendersi una secchiata dal giovane sbarazzino, ma che a poco a poco gli insegna tante cose. Gli insegna, per esempio, questo benedetto mistero della numerazione posizionale, che è il segreto del sistema dei numeri arabi. Come glielo spiega, come glielo insegna questo sistema? Beh, giocano insieme... Devo far vedere andare avanti? Sì, non so se c'è... Questo è il padre. Questo è il papà, che sbarcano a Bugia di Barberia. Perché se lo porta dietro non si è mai capito. No, poi il padre fa anche una cosa dopo, questa è una storia vera, lo usa tipo scimmia maestrata, cioè una volta che il figlio apprende tutte queste cose lo porta nelle corti tutta Europa, da Federico II, finché non torna a Pisa, perché il ragazzino è geniale, insomma. Sapete che il cognome Fibonacci non è in cognome, è Fib... Figlio di Bonaccio. Di Bonaccio. In realtà il padre si chiamava Guglielmo, era Guglielmo Bonacci, e quindi Fibonacci in qualche modo. È un cognome giusto, il Fibonacci. Questo Guglielmo era bravo, era un bravo scriba, era Publicus Scriba Pro Pisanis Mercatoribus a Bugia, appunto, questa località dell'odierna Algeria. E faceva i conti con le cifre romane. Sì, sì, col grande problema. Cioè, a noi sembra tutto semplice, tutto normale, ma la rivoluzione dei numeri ha un effetto epocale e rivoluzionario che cambia veramente i destini del mondo. Per noi sembra una cosa abituale giocare con i numeri, con i numeri quelli che chiamiamo arabi, che poi sono indiani. Ma in realtà la rivoluzione è talmente violenta che non se ne percepiscono più le tracce, perché è diventata quotidiana. Cioè, prima, non c'era la possibilità di mettere i numeri in colonna. Cioè, se voi volevate fare un bel calcolo, no? E usare i numeri romani per fare una moltiplicazione, era un guazzabuglio, perché non potevate mettere i numeri in colonna. Le unità, le decine, le centinaia, le migliaia, non era possibile. Una grande civiltà, quella greco-romana, a cui manca un supporto, che è quello dei numeri. Non ce li hanno. Non gli appartiene. Gli appartiene il concetto di numero. Per esprimere il numero si usava una perifrasi. I grandi matematici greci usano una perifrasi per dire il numero e per esprimere il calcolo, soprattutto. Cioè, non fanno uno per tre uguale zero. X è uguale. Non esistono. Non esistono neanche nel Medioevo. Arriveranno dopo, con Cartesio, insomma, con l'epoca di Cartesio. Ma c'è tutto questo giochetto che manca agli uomini del Medioevo e agli uomini dell'epoca classica. A un certo punto l'innovazione medievale. Si possono mettere i numeri in colonna, ma soprattutto si può fare una magia che stravolge completamente quelli che erano gli orizzonti del mondo matematico concepito fino ad allora. Cioè rendere un'unità infinito. Questa cosa bellissima dice Shakespeare. come trasformare il nulla in infinito. Basta che usiamo una cosa bella, bellissima, che si chiama zero. Zero. Da sola non significa, come fanno i nostri maestri a scuola, da solo non significa niente, messo vicino a qualche unità diventa dieci, cento, mille, un milione, un miliardo, infinito. e infatti la parola e queste sono le cose più belle di tutte. Aspetta un attimo. Prego. Anzitutto vediamo questa copertina. Guardala un po'. Sì, ah, allora, il libro ha avuto successo, mio malgrado ha avuto grande successo, infatti è stato tradotto in arabo e adesso sarà anche tradotto in cinese. a Natale uscirà in cinese, non mi chiameranno là a fare una presentazione, vorrei tanto, ma questa è la versione in arabo e se vedete praticamente rispetto a questa sono tutto al contrario, perché il libro si legge speculare, speculare, tutto al contrario, io sono napoletano. Deve dire speculare. Tutto al contrario è proprio napoletano, è speculare, quindi praticamente leggere il libro lo aprite nell'altro verso. Ma lo sappiamo, dai. No, vabbè. No, perché quando me l'hanno dato io sono lo giravo per cercare di capire da dove dovevo entrare e ci sono riuscito, poi alla fine me l'hanno fatto vedere. Perché mi dispiace non averlo portato, ma questa è la copertina e la cosa più divertente è stato vedere il mio nome in arabo che credo sia quello sopra. Immagino. Come? E però vorrei riflettere un altro su una cosa con voi al di là dello scherzo al di là del gioco perché il il movente che c'è dietro a questo libro è profondo. Cioè è l'espressione questo rapporto fra il ragazzo e Ahmed che è una fiction me la sono inventata io però è espressione di un fatto reale. dell'incontro non dello scontro fra la civiltà. Assolutamente. Cioè nel 1180 a bugia di barberia pisani cristiani e musulmani di di bugia dialogavano parlavano e in quel momento online tutta Europa e anche dopo ci sarà gente che dialogherà e parlerà Gerardo da Cremona cioè questa è gente che prende e prende i testi musulmani li traduce e porta le conoscenze in Europa è un grande flusso enorme una corrente un'ondata di conoscenze che attraverso il mondo arabo attraverso la Spagna attraverso l'Africa attraverso il sud Italia e arrivano in Europa e così arrivano i numeri in questo mondo strano che veniva rappresentato così sotto sopra lo spiegare anche l'altro giorno quando si parlava di lucera e c'è anche un'altra pianta che questa è ancora la pianta di Drisi però questa è l'Italia come era rappresentata e una cosa bisogna capire lo zero i numeri sono frutto di un grande incontro di tante civiltà non di una e due ma questa cosa comincia alcuni dicono in Cambogia sesto settimo secolo dopo Cristo alcuni dicono in India c'è un signore si chiama Brahma Gupta che uno dovrebbe poi questi 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 numeri viaggiano d'orso del cammello sui cavalli nelle 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 bisacce dei mercanti e vanno vanno camminano e arrivano nel posto più straordinario del mondo che è questo la grande capitale del mondo musulmano Bagdad quando Bagdad c'aveva un milione di abitanti nel nono decimo secolo in Europa non c'erano le città o c'erano dei simulacri di città delle pantomime di città Bagdad c'erano un milione di abitanti e c'era un posto che si chiamava la casa della conoscenza dove affluivano tutti i saperi e c'erano dei saggi là dentro che parlavano e discutevano e portavano conoscenza e lì probabilmente è arrivato questo libro di Brahmagupta leggenda vuole da un ambasciatore indiano eccetera e da lì poi si è diffuso la penisola arabica nel nord Africa poi arriva questo ragazzino lo prende e ce lo porta a noi questo la persona che viene subito dopo è un grande Al-Khwarasimi da cui viene anche che è uno dei papà dell'algebra e ancora questo è uno dei sistemi vedete come si è dall'indi dal persiano dall'arabico all'europeo come si è evoluto il sistema numerico questa valletta dal basso verso l'alto valletta dal basso verso l'alto dal tamil al salire e vedete insomma quali sono lo zero anche come viene rappresentato un puntino spesso e gli altri numeri come sono e poi ancora c'è l'altro e questi sono tutti gli influssi che arrivano in Europa il più antico è il codex Vigilianus che però non è successo cioè c'era qualche monaco che si impadronizzava risce di questo sistema indo-arabico lo prende però non va bene ci vuole una figura di rompente ci vuole Fibonacci e guardate che la rivoluzione di Fibonacci non è che è stata subito ben accetta non è che quando lui ha importato questi numeri tutti quanti gli hanno fatto un bello applauso no per esempio a Firenze dicono questi numeri non sbannusati sono uno strumento del diavolo oltretutto si possono fare 50.000 contraffazioni basta mettere uno zero in più cambia tutto e per esempio quindi nei registri ancora tutta gran parte del 300 molta contabilità fiorentina si usano ancora i numeri romani e poi sotto i numeri arabi e non sempre e non sempre si usa anche i numeri romani vengono usati indefettibilmente fino a tutto il 200 cominciano a penetrare nei libri di conti con il 300 ma insomma sempre con fatica con fatica e i conti questi grandissimi queste coltissime persone che facevano di conto come il padre di Leonardo lavoravano con l'abaco ovviamente non con carta e penna insomma il salto della numerazione araba è che si fanno i conti con carta e penna è un sistema di scrittura per concludere questa parte perché poi subentro io con un episodio che è fondamentale no perché adesso ora presento io il professore Bartoli ma io volevo che raccontassi la storia dello zero come nome come parola la parola perché come rappresentare come rappresentare questo zero come chiamarlo lo zero è la cifra è la cifra la cifra del sistema zero perché zero perché questa parola dove viene scusate per capire la differenza è chiaro ed è ovvio che nella numerazione romana lo zero non c'è non c'è non c'è sia nel mondo greco che nel mondo romano non c'è l'idea dallo zero nell'idea nel segno nel segno niente non c'è cioè noi partiamo da una serie di presupposti culturali per il quale la romanità e il mondo greco classico abbiamo raggiunto delle vette superiori di conoscenza di rappresentazione del mondo e della realtà e invece modestamente la gente del medioevo ogni tanto qualche innovazione qualche rivoluzione la faceva tipo questa è lo zero ebbene la parola loro come non tanto la rappresentazione quando dovevano concettualizzarlo dicevano è il vuoto il nulla oppure una cosa poeticissima è il vento zfr da zefiro da cui viene lo zero da cui viene anche la parola cifra da zefiro lo zefiro da zefiro viene il vento e viene anche la parola cifra zfr quindi capite quanta poesia c'è ogni giorno che prendete in mano il telefono e chiamate vostra figlia vostra moglie gli amici eccetera eccetera e fate lo zero e fate col tazzo fate quello zero dietro c'è tutto il nulla il vuoto e il vento di una tradizione millenaria di una bellissima struttura di lungo periodo che un bambino ci ha portato fino a noi è una grande poesia una poesia rivoluzionaria di leonardo in italia parliamo dopo ma adesso è arrivato il momento di presentare il professore Bartoli chiaramente il professore Bartoli qui gioca in casa però vi posso dire che anche quando gioca fuori casa è come la juventus vince sempre pur se odio la juventus io personalmente per carità da napoletano perché io ho avuto il piacere di conoscerlo all'istituto storico del medioevo dove ha diretto per diversi anni una scuola di paleografia ma di altissimo livello per postdoc per dottorandi e postdottorandi è stata una bellissima esperienza e l'animatore era il professor Bartoli Langelli dai cui noi ci mettiamo là per cercare di imparare dalle sue lezioni cose che ci potevano tornare utili poi in questo mestiere che facciamo come diceva anche prima Federico si tratta di un maestro devo dire che oggi in Italia non ce ne sono moltissimi anche per una certa ripulsa da parte degli studenti di instaurare questo tipo di rapporto tra studente e maestro anche perché il nostro lavoro è molto artigianale è veramente avete sentito anche prima il mestiere si diventano un po' dei mestieranti si applicano delle regole si gioca di fantasia certo c'è la filologia ma c'è anche l'interpretazione e così via quindi è un vero e proprio mestiere e in questo mestiere sicuramente uno dei capi artigiani uno dei capi mastri è sicuramente in Italia in questo momento è Bartoli Langelli senza dubbio ma non lo dico per piageria perché dopo mi dà 50 euro perché il patto è questo ma la realtà è davvero questa insomma andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti e con una novità ma quale novità l'ho pubblicata da 10 anni fa per loro una novità va bene mentre il nostro Leonardo Fibonacci se ne sta a bugia a imparare da Ahmed i segreti della numerazione posizionale c'era qualcun altro che usava i numeri arabi in Italia e non stava nelle città marinare in contatto con il mondo ma stava a Perugia la Terragna Perugia un notaio che si chiama Raniero di cui abbiamo ben 23 documenti una cifra molto alta per l'epoca che vanno dal 1184 al 1206 Leonardo è ancora un ragazzino Leonardo sta ancora la prima edizione per dire così del Liberabaci è del 1202 e questo già dal 1184 utilizza le cifre indo-arabe bisogna dire così tecnicamente questo è un documento molto brutto di Raniero ormai abbastanza vecchio è del 1206 ma è per farvi vedere la capacità che ha questo notaio di personalizzare in misura estrema i propri documenti con una serie di segni uno più complicato dell'altro in quest'epoca infatti il notaio non ha ancora quella che si chiama la pubblica Fides quella che conquisterà poco a poco e che significherà il fatto che il documento scritto e sottoscritto con determinate modalità dal notaio è di per sé automaticamente intrinsecamente autentico qui l'autenticità va ancora raggiunta facendo perno sulla persona del notaio una persona riconosciuta come brava affidabile e così via e quindi il documento per essere autentico deve essere riconoscibile come scritto da quella persona capito? e quindi ogni notaio tenta di inzeppare il documento con segni di autografia con tracce di riconoscibilità e lui ne utilizza molti per esempio il segno all'inizio quello che sta ovviamente in alto si vede il mouse no non si vede proprio in alto a sinistra all'inizio del testo quello sopra sopra quello lassù a sinistra in alto è questa roba qui è un segno di croce dunque su cui si incaldinano vari segni alfabetici e che fanno il monogramma della parola Christus quindi un segno parlante si vedono bene i segni? un'invenzione spettacolare mai tentata mai realizzata da alcun altro notaio un altro segno di Raniero questo più consueto più tranquillo è la cosiddetta l'isca di pesce cosiddetta internossa naturalmente non si può scrivere perché noi dobbiamo scrivere eleganti figuratevi la paleografia la diplomatica l'isca di pesce questa cosa qui è un tracciato lungo intersecato da tanti trattini il numero dei trattini laterali corrisponde al numero dei personaggi che sono nominati accanto signum manus preditorum stefani eccetera eccetera questi sono tutti nomi se uno fa il calcolo conta tutte queste persone e vedrà che questi segnetti già non vedete il mouse i segnetti che intersecano l'asse verticale coincidono come numero con quelli questo è un ricordo della vecchia prassi per cui le dovevano sottoscrivere il documento le persone che davvero intervenivano autograficamente anteponendo la propria firma un segno di croce e quindi nel documento si aveva una fila di segni di croce accanto a ciascuna delle quali c'era la sottoscrizione del personaggio in oggetto che fosse attore ricevente testimone o altro e quindi a questo punto in cui non ci sono più questi interventi autografi da parte di tutti gli intervenienti è solo un notaio che scrive ma realizza questa risca di pesce per ricordare in qualche modo la fila dei signi a croce e infine la sottoscrizione ogni documento per essere tale deve essere sottoscritto dal notaio accompagnato da un signum personale il signum di Raniero è questo è un disegno complicatissimo provate ad imitarlo non ci riuscirete mai fatto con estrema perizia in forme più o meno diverse ma l'intreccio degli elementi e già questo è quel signum crucis con la parola di Cristo con questo cuscinetto a fili intrecciati a realizzare un signum i signi dei notai di solito dovevano fare riferimento alla croce qui no questo è un puro cuscino che mi dicono i bravi matematici corrisponde più o meno come principio alla curva di Lissajus di cui non sospettavo l'esistenza ve l'ho disegnata qua sotto ma guardate la suprema arte del fare quel disegno che poi è abbastanza piccolo non si tratta di un disegnone solo qui i segni alla lontana se rivediamo un documento qualsiasi di Raniero si tratta di questi segni tutti sul lato sinistro della pergamena il primo in alto il secondo ai tre quarti e il terzo il cuscinetto all'ultimo vediamo dunque un altro documento perché c'è qualche altra cosa questo è un documento lunghissimo molto importante del scandito in due tappe che copre il 1193 e il 1194 è un documento che non andiamo a leggere ovviamente che consiste di 56 linee di scrittura attenti perché l'ultimo segno di Raniero l'ultimo anche fattivamente perché l'ultima cosa che scrive dopo aver completato il documento è la cifra in caratteri arabi sotto nella nicchia formata dal signum crucis la vedete in alto a sinistra sotto il signum crucis a sinistra ancora ci stanno quei due segni quello è 56 quante sono esattamente le linee le righe di scrittura del documento di Raniero capite? sono 56 linee lui finisce di scrivere conta all'insù torna su e all'inizio del documento scrive il numero totale delle linee di scrittura ma cosa mai vista? questa è la cifra ancora una volta dell'autenticità dei documenti di Raniero è una cifra tutta sua e personale perché solo lui capisce il senso di quella cifra sia la funzione contare il numero delle righe sia le cifre che nessuno conosceva è questo notaio lei conosceva invece e le usa le cifre arabe qui vedete un po' di esempi dei vari signum crucis con il numerino sotto nei documenti originali di Raniero riuscite forza a vedere un 73 un documento lunghissimo all'inizio un questo cos'è 64 il secondo il terzo non lo vedo ma dovrebbe essere 32 il quarto non si vede proprio il quinto è 52 questo è 63 eccetera eccetera questo si vede bene è un 60 questo è il 56 che abbiamo visto ora 28 ancora 28 30 cos'è? 32 di nuovo questo non lo vedo proprio questo è 27 guardate che bel 7 la riprova del fatto che sia solo lui a conoscere questo segreto sta nel fatto che quando un notaio e altri notaio lo fanno quando un notaio successore deve copiare un documento di Raniero cerca di imitarne i segni ma non ci capisce un H questo è un notaio che ha intravisto un 2 ma sappiamo noi che è un 2 lui imita meccanicamente quei segni che vede sotto il signum crucis senza capirne minimamente senza né saperne leggere né capirne il senso questa è la catena dei numeri di Raniero ci stanno per fortuna beh i documenti sono 23 quindi non è solo fortuna eh i 10 le 10 cifre eh arabe sotto vedete accanto a ciascun numero il numero delle occorrenze insomma questo notaio a Perugia poi uno dice ma Genova Venezia ma scherziamo chissà dove l'ha imparata queste cose chissà da dove viene per Raniero poi c'è anche un'altra un'altra cosa che ti fischia un po' nell'orecchio Ranieri da Perugia non so se nessuno di voi se qualcuno di voi l'ha mai sentito è l'autore bolognese emigrato a Bologna di un formulario notarile importantissimo degli inizi del 200 Ranieri da Perugia questo pure si chiama Ranieri da Perugia ma secondo me muore a Perugia il fatto che differenzia se c'è bisogno di differenziare l'esperienza del notaio Ranieri da Perugia o di Perugia da quella di Leonardo Fibonacci è l'esito dell'una dell'altra in un caso il notaio Raniero è un episodio chiuso in se stesso che finisce lì che non ha nessuna nessunissima conseguenza nessun impatto nessuno ha mai capito il senso di questi numeri finché non sono arrivati Vittorio Detonato che ha pubblicato le carte di Val di Ponte in cui c'erano e che ha intravisto la soluzione finché non è arrivata mia moglie perché io vedevo questi numeri e dico ma che roba è che roba è sarà la tariffa sarà qualcos'altro e Imma così si chiama mia moglie che è naturalmente napoletana Tanto per rendere omaggio a Napoli anche attraverso questa citazione mi ha detto ma è il numero delle righe ti corra una rivelazione in caso la mente preparava il ragù erano tre anni che non stava pensando questa cosa sono le righe sono le righe mentre invece Leonardo Fibonacci è tutt'altro che chiuso in se stesso tutt'altro che è finito quando Leonardo arriva in Italia sfonda tutto quando Leonardo arriva in Italia sfonda tutto il successo è straordinario torna a Pisa e diventa il padre della patria insomma andate a Pisa e trovate la statua di Leonardo Fibonacci si propaga si propaga l'idea dei nuovi numeri soprattutto si propagano anche le sue opere che non contengono soltanto concetti e elementi relativi ai nove numeri più lo zero ma sono di una ricchezza di una vastità tale soprattutto per quanto riguarda la pratica commerciale ragioneristica insomma lui aveva vissuto in quel mondo e quindi fornisce una serie di elementi però c'è una cosa magica che lui ci regala la sequenza di Fibonacci sapete tutti quanti che cos'è è una cosa magica sotto tutti i punti di vista cioè i due numeri precedenti sommati danno il numero successivo quindi 1-1 2-2-1 3-2-5 5-3-8 e così via 8-5-13 e così via in questa formando questa spirale stranissima che si allarga sempre di più il problema è questa cosa di Fibonacci è di Fibonacci e no probabilmente sarà una cosa antica antica quanto è antico il mondo chissà per quali stranissime e recondite correnti tutta questa sequenza numerica questo gioco si è arrivato fino a noi il problema però è che questa sequenza è uno dei pilastri del nostro universo della nostra realtà della realtà che ci circonda per esempio il Nautilus spirale logarittmica detta anche spirale aurea qua ce ne sono tantissimi altri esempi guardate per esempio ancora il Nautilus le corna dell'ariete il numero dei petali i numeri delle scaglie dell'ananas e poi se andiamo ancora avanti questo una galassia la struttura della galassia corrisponde a uno schema di Fibonacci alla sequenza di Fibonacci non so se hai visto un'immagine anche dell'asteroide Fibonacci un asteroide il numero 6,7,6,5 che evidentemente nella sua orbita fa un certo giro per cui l'hanno battezzata Fibonacci non solo guardate adesso quest'altra immagine la Gioconda uno storico dell'arte si è messo lì e ha rappresentato la Gioconda dicendo guardate tutto lo studio che fa Leonardo non è nient'alto che una rappresentazione della sequenza di Fibonacci partendo dal naso della povera Gioconda che è stata violentata in tutti i modi possibili e immaginabili tutti i numeretti e la povera donna viene racchiusa all'interno di una sequenza di Fibonacci e poi sotto c'è il rapporto 1,618 che è il numero aureo 1,618 e poi ancora questo è molto bello il volo del falco quando caccia segue una struttura che è simile alla sequenza di Fibonacci ma la più bella di tutte invece è quest'altra qua il cavolo romano il cavolo romano guardate che i matematici sono impazziti su questo crescita frattale cioè è un esempio perfetto di geometria dei frattali quindi il superamento della geometria euclidea secondo la spirale logaritmica anche questa a casa mia quando si prepara io cerco di spiegare guardate questo mangiamo un po' di sequenze di Fibonacci mi guardano strano e proseguiamo la serata ma l'ultima cosa è questa è la cosa più interessante di tutti perché qui dentro c'è la sequenza di Fibonacci in ognuno dei processori Pentium c'è la sequenza di Fibonacci infatti gli informati ce la chiamano la Fibonacci HEP che è questo tipo di struttura matematica che si regge sulla struttura del sistema di Fibonacci che è alla base dei nostri processori e del calcolo che fanno i processori che sono qua all'interno quindi ci portiamo ogni giorno in tasca un pezzetto di innovazione medievale senza accorgersene non soltanto facendolo zero ma anche perché c'è il Fibonacci HEP qua dentro secoli bui secoli bui secoli bui secoli bui Fibonacci è un personaggio talmente importante per le scienze matematiche dunque anzitutto io sono convinto che la sequenza di Fibonacci l'abbia inventata lui perché deve venire da qualche altra parte si mette a tavolino dice proviamo a fare questa cosa e poi dice ma guarda ma seguitiamo 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 ma c'è una rivista internazionale di scienze matematiche la Fibonacci Quarterly c'è la steroide già l'ho detto e c'è il Fibonacci dei lo sapete a livello internazionale il Fibonacci dei è il 23 novembre perché perché numerando l'americana la sequenza di Fibonacci c'ha 1 1 2 3 11 23 23 novembre tutti i matematici di tutto il mondo si riuniscono per i loro giochi queste cose strane astruse ma ormai siamo talmente affiatati Amedeo e Dio che puntiamo a un prossimo Fibonacci dei per ripetere per ripetere questa esperienza sicuramente ballare non ancora ma per ripetere il Fibonacci dei con grande grande piacere poi per me è sempre un onore farlo con Attilio Bartoli l'angeli grazie grazie a voi per la meravigliosa grazie a voi